Ho un'altra scatola dei coni di Villanova, di Bagnacavallo, Ravenna. È un vecchio sonaglio per i bambini, degli anni 50. È uno strumento che avvisava le altre imbarcazioni quando c'era la nebbia. Io vendo vecchi orologi e andare a mezzogiorno non ce n'è più. Qui trovate anche il miele, nostra produzione. È a Budrio, è guai, è mancato. Sì, lo conoscivo. È bellino, è proprio carino, non ci sono mai stata ma ci verrò più spesso da ora in poi. Valentino ti saluta, ciao!